Come vendicarti del narcisista? Se vuoi vendicarti del narcisista e farlo stare male, proprio infliggergli una dura punizione, c'è solo una cosa che devi fare, smettere di dargli attenzioni, fare focus su te stessa, su te stesso, vivere bene, goderti la vita, non cagarlo neanche di pezza, lasciarlo nel suo brodo, chiudere ogni tipo di rapporto dall'oggi al domani, senza dargli spiegazioni, sparire, dissolversi come nebbia al sole e goderti la vita, goderti la nuova situazione che capiterà sicuramente non appena ti sarei tolto dal groppone, non ti tolto dal groppone questo malopazzo, questa sanguisuga che è il narcisista, quindi levatelo dalle palle, quella è la mia vendetta, metti un like con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari, ciao!